Big match scoppiettante ad alto tasso emotivo in quel diesine tra Eden e Concesio. Uno scontro d'alta classifica terminato sul punteggio di 3-3. Un pari sostanzialmente giusto al culmine di un match che ha visto entrambe le compagini lottare sino al fischio finale per agguantare l'intera posta in paglio. Ad approcciare meglio la partita decisamente i locali di mister Ernesto Pedersoli, bravi a capitalizzare un micidiale 1-2, frutto dei sigilli di Bressanelli e Tavoni già nel quarto d'ora iniziale. Una doccia gelata per gli ospiti colpiti a freddo, immediata tuttavia la replica triumplina testimonianza di un grande carattere. Tra il quindicesimo e il ventiduesimo lo Iacono firma infatti una pesante doppietta riportando in pochi giri di lancetta il punteggio in equilibrio. L'undici di Gustinelli, ancora il più concreto in avvio della seconda frazione, Cantoni al sesto porta avanti il Concesio che a questo punto inizia a credere nel colpo grosso. La compagine Bresciana non fa però i conti con un Eden Caparbio che agguanta il pareggio con Belli a 5 minuti dallo scadere. Un punto per parte che mantiene la corsa al vertice aperta e avvincente.